Una chef abruzzese abituata a lavorare in giro per il mondo, un vinosofo, uno chef di uno dei ristoranti più rinomati di Pescara e sette edizioni alle spalle. Inizia così l'edizione 2015 di Pecorino e Pecorini, manifestazione che ogni anno trasforma a farindo la patria del celebre formaggio in una esposizione enogastronomica dedicata agli amanti dei sapori d'Abruzzo. Abbiamo voluto coinvolgere anche Pescara, un ristorante di mare, quindi Ferraioli, che comunque sta utilizzando il proprio di farindo per i suoi piatti. L'evento comunque è legato a questo prodotto che ne fa da punto in riferimento e soprattutto il vino Pecorino e i vitigni abruzzesi di questo buon vino. Contaminazioni internazionali per un prodotto, il Pecorino, che dimostra di saper coniugare e conciliare i sapori inaspettati, guadagnandosi il lignaggio di nobile accanto ai più rinomati cugini d'Oltralpe. Assolutamente sì, questo è uno dei miei scopi principali, anche perché io nasco come cuoca, come chef sicuramente di un territorio che è l'Abruzzo. Voglio portare il mio territorio e comunque portare me stessa, quindi io cucino sempre con i prodotti della mia regione, perché il mio modo di cucinare è quello. Chiaramente innovo tantissimo, c'è tanta contaminazione con tante spezie del mondo, quindi anche la bellezza di poter fare un lavoro in freelance significa proprio il contaminare la propria cucina con la cucina anche degli altri colleghi e delle altre parti del mondo. Infine il vino come esperienza sensoriale raccontata, analizzata e spiegata da un coltore che riunisce conoscenza e filosofia, un vinosofo. L'abbenamento qui è d'obbligo, è il Pecorino vino con il Pecorino formaggio, il Pecorino di Farindola, che è veramente secondo me qualcosa di eccezionale, di speciale da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista del gusto, della qualità, dell'interesse alimentare per chi ha problemi di intolleranze, celiachia eccetera, quindi è un connubio veramente molto molto interessante.